Lo scandalo di P. Diddy che in questi giorni ha sconvolto tutto il mondo non la smette di peggiorare. Infatti mentre lui si trova ancora in carcere, ogni giorno stanno saltando fuori delle nuove prove che non solo dimostrano quanto fosse grave la situazione e le cose che faceva Diddy, ma quante celebrità sono coinvolte in tutto questo. E non è un caso se tutta Hollywood sta tremando per le conseguenze catastrofiche di questo caso e per tutti i segreti che stanno venendo rivelati, come ha dichiarato anche l'avvocato dell'accusa. E oggi siamo qui per vedere alcuni importanti aggiornamenti che sono saltati fuori in questi ultimi giorni contro P. Diddy a partire dalle 3000 persone che lo stanno accusando di essere state vittime di dei reati compresi anche dei bambini di solamente 9 anni, fino al ruolo anche di Beyoncé in tutto questo dato che ultimamente si trova in tantissimi video virali come se fosse anche lei un'accomplice ma anche la testimonianza di un ragazzo che racconta che da bambino, quando aveva solamente 6 anni era stato presente a uno dei famicirati parti di P. Diddy. Una lista di celebrità coinvolte e di nuovi inquietanti video con Justin Bieber da ragazzino e non solo. Quindi abbiamo un sacco di cose di cui parlare oggi perché, come vi avevo promesso, vi manterrò aggiornati su questo caso. Dunque, se siete nuovi potete valutare e iscrivervi per seguire le ulteriori novità sul caso P. Diddy. Oggi non ripeteremo tutte le informazioni del primo video, che se ve lo foste persi vi consiglio di recuperare, ma giusto per assicurarci che siamo tutti allo stesso punto, P. Diddy o Puff Daddy o il suo vero nome Sean Combs è un produttore, rapper, attore e imprenditore estremamente famoso e potente che di recente è stato accusato e arrestato per violenze di tutti i tipi, traffico di esseri umani e in particolare di organizzare delle feste dove partecipavano tutte le celebrità più importanti al mondo dove praticamente ogni legge esistente veniva in franta e accadevano molte cose non consensuali, con celebrità o altre vittime costrette da Diddy e i complici a fare cose con la forza e che a volte riguardavano anche persone di età molto bassa. E adesso, oltre alle accuse che già abbiamo visto nel video precedente da parte dell'ex moglie, un producer e altre persone, il primo aggiornamento da cui partiremo oggi riguarda le nuove accuse che si aggiungono a quelle che hanno già portato al suo arresto. Infatti, gli avvocati che si stanno occupando di questo caso contro Diddy hanno detto che i nuovi documenti del loro possesso sono senza precedenti e che alla richiesta di altre potenziali vittime di farsi avanti hanno risposto addirittura 3.000 persone. Tuttavia, di queste accuse solamente 120 sono state ritenute attendibili e questo avvocato texano insieme a suo collega si occuperanno di rappresentare queste 120 persone e portare avanti queste accuse contro Puff Daddy. Di queste 120 accuse, 60 riguardano uomini e 60 riguardano donne, incredibilmente la parità di genere per Diddy sembra che fosse una priorità, non discriminava nessuno da questo punto di vista. E l'avvocato ci ha anche fatto sapere come nella quasi totalità dei casi i racconti di queste presunte vittime sono simili. Moltissimi e moltissime erano giovani artisti che cercavano una possibilità nel mondo della musica e sono stati attratti alle sue feste con la promessa di una svolta professionale. Quello che succedeva poi in queste feste, lo sappiamo tutti, giravano sostanze che venivano date ai partecipanti che facevano perdere coscienza e lucidità e poi avvenivano molte cose senza loro consenso. Spesso poi riprese dallo stesso Diddy o chi per lui. Praticamente quello che succedeva era il solito script usato mille volte su altri siti in cui si vedono dei partecipanti andare ad un casting su un divanetto di colore nero, solo che poi i produttori avevano altri programmi per quel casting. Ecco, Diddy ha portato quel format nella vita reale e mille volte peggio. Inoltre un'altra cosa ancora più preoccupante è che di queste presunte 120 ulteriori vittime, che tra l'altro non sono tutte perché gli avvocati stanno ancora lavorando ad altre chiamate che stanno ricevendo in questi giorni, ma comunque di queste 120, 25 all'epoca dei fatti erano minorenni. E c'è anche un uomo che sostiene che all'epoca aveva solamente 9 anni quando è finito insomma tra le grinfie di Diddy e ha subito quelle cose orribili. In cambio del silenzio di queste persone poi Diddy avrebbe offerto dei soldi. Tutte queste cose avvenivano spesso durante le ormai famigilate feste di Sean Combs, i Diddy Party o White Parties avevano mille nomi e questi party avevano luogo o in alcuni hotel di lusso oppure in delle residenze private in varie città come Los Angeles, New York, Miami e non solo. E a tutte queste feste era pieno di VIP e star di Hollywood di ogni categoria. Musica, film, intrattenimento, di tutto. E anche politici. E l'avvocato di chi vi ho parlato prima che rappresenterà queste vittime ci ha tenuto a dire questo riguardo alle celebrità complici di Diddy, sostenendo che i loro nomi non solo ci scioccheranno ma che farà il possibile per non fargliela passare liscia. Nomi che ci saranno nomi sono nomi che ti scioccheranno. Questi sono case individuali. Ci sono anche altri perpetratori involuati. Si saranno rivelati quando il caso particolare individuale è pronto a essere filato. Sì, già conoscono chi sono. E sto parlando qui di non solo i bambini, ma i bambini complici. C'è, di quei persone che conosciamo che hanno guardato questo comportamento occorre e non hanno fatto nulla. E sto parlando di persone che hanno partecipato, hanno incontratto, hanno incontratto, hanno incontratto. Quello che dice questo avvocato è molto importante perché ora tutti stanno guardando Diddy come un mostro. E se queste accuse venissero confermate, è effettivamente così. Era un mostro. Ma di certo non era l'unica a fare quelle cose. Aveva la collaborazione e proprio partecipazione di moltissima altra gente famosa e potente quanto lui. O ancora di più. Anche perché fare tutte queste cose da solo era veramente difficile. Sicuramente ci erano dei complici ed erano molto potenti. Ma ora passiamo alla seconda cosa che vedremo oggi, cioè la testimonianza di un uomo che ci racconta di essere stato presente a una festa a casa di Diddy quando aveva solamente 6 anni. E lo vediamo qui in questa foto. Era proprio questo bambino. Era andato nei telegiornali americani per raccontare quello che è successo e cosa ha visto. Praticamente sembra che nessuno a Hollywood era realmente sicuro da Diddy e i suoi complici. Un po' come nessuno di noi è al sicuro quando naviga sul web con tutti i tentativi di truffe, hacker, furti di dati e molto altro. Ma per fortuna, per navigare sicuri, esiste SoftShark VPN che è lo sponsor di questo video che vi aiuta a proteggere tutte le vostre informazioni. Per chi non lo sapesse, una VPN tramite la criptografia dei vostri dati rende la vostra connessione completamente anonima e sicura. In questo modo, con SoftShark VPN potete connettervi a qualsiasi wifi pubblica che sia in aeroporto, hotel o molto altro senza preoccuparvi mai di hacker e furti di dati. Ma in più, oltre alla protezione, ci sono anche vantaggi. Infatti, grazie a SoftShark vi basterà un click per simulare che la vostra connessione arrivi da un altro paese permettendovi di avere accesso a sconti per viaggi, hotel e molto altro esclusivi solamente per alcuni paesi risparmiando così centinaia di euro. E SoftShark risolverà anche tutti i vostri problemi di non trovare mai un film o una serie tv da vedere nelle varie piattaforme di streaming perché vi permetterà di sbloccare tutti quei contenuti bloccati nel paese in cui vi trovate ma disponibili altrove. Solo con i soldi che risparmiamo con questi due vantaggi possiamo pagare SoftShark per anni visto quanto è conveniente il prezzo qui offerto che diventa ancora più vantaggioso con uno sconto esclusivo riservato a voi che seguite il mio canale. Infatti, cliccando il link in descrizione che vedete qui, softshark.com slash tweener avrete fino a 4 mesi extra completamente gratis. E sapendo che SoftShark offre una garanzia soddisfatto rimborsato di 30 giorni e sarà disponibile su tutti i vostri dispositivi con un solo abbonamento non posso che consigliarvi di provare questo incredibile servizio andando su questo link che troverete anche in descrizione. E ringraziamo ancora gli amici di SoftShark per aver sponsorizzato questo video torniamo a vedere il caso di P. Diddy e la testimonianza di quest'uomo che ha partecipato a uno dei suoi party quando aveva solamente 6 anni. Lui si chiama Justin Litovsky e oggi è un adulto ma è finito in vari giornali per raccontare la sua esperienza quando nel 1999 è stato a uno di questi party quando era un bambino con Diddy mentre questo è lui adesso. E ha raccontato quanto segue. Ha dichiarato gli stessi recato a un barbecue pomeridiano con il magnate dell'hip hop ma le scene che si è ritrovato davanti erano tutt'altro che spensierate per un bambino della sua età. Ricordo un sacco di erba e un mucchio di donne in topless in piscina ha dichiarato Io volevo solo nuotare non sapevo se ciò che vedevo fossero cose buone o cattive ma speravo di tuffarmi. Insieme a questo bambino c'era anche il suo padre che era il fotografo di quella festa e anche la madre che ha dichiarato quanto segue. C'erano bottiglie ovunque e donne sessero vestiti non ero sicura che fosse appropriato o normale mi chiedevo come mai i bambini fossero ammessi alla festa che ne siamo andati via alle 21.30 dopo aver trascorso il pomeriggio evitando il fumo di marijuana e le donne in topless. Per quanto riguarda questa testimonianza vedere un bambino di 6 anni intorno a Diddy e le feste soprattutto dopo aver letto l'accusa di un bambino di 9 anni che avrebbe subito cose indicibili da lui è abbastanza inquietante e disturbante. Tuttavia quel bambino lì c'è finito a quella festa grazie ai genitori che avevano dei contatti con quelle celebrità per esempio il padre che faceva il fotografo e non capisco che l'attore genitore potrebbe portare il figlio di 6 anni a un evento di quel tipo perché se è vero che sicuramente all'epoca non sapevano tutti gli scandali scoppiati a oggi e le cose gravissime che succedevano era comunque una festa per adulti dove decisamente un bambino non dovrebbe prendere parte anche se fosse rimasto tutto nei limiti della legalità ma questo racconto conferma come P. Diddy e i suoi compagni di party non avevano realmente dei problemi ad avere intorno dei bambini i minorenni e uno di loro forse il più famoso che ha partecipato a quelle feste è Justin Bieber abbiamo visto anche nello scorso video come lui aveva passato 48 ore con P. Diddy con delle premesse molto discutibili che con senno di poi hanno fatto rivalutare tutta quella situazione e in questi giorni ovviamente le persone sono andate a cercare tutti i video di Justin e Diddy insieme che con le formazioni di oggi potrebbero assumere tutt'altro significato e un esempio è questo qui in cui vediamo P. Diddy lamentarsi perché Justin non l'ha più contattato decisamente in quel video Justin sembra molto a disagio ed è anche per questo che penso che sia importante prendere con le pinze le liste di persone che stanno uscendo e cercare di contestualizzarle perché se è vero che anche gli avvocati che si occupano di questa causa hanno confermato di avere una lista di celebrità che testuali parole ci scioccherà perché non solo hanno osservato quello che accadeva ma anche partecipato c'è anche da ricordarsi che alcuni erano anche vittime di queste situazioni e da quanto sembrerebbe da questi video considerando anche che Justin all'epoca aveva solamente 15-16 anni ed è stato preso da Diddy un po' come un mentore diciamo è più probabile che lui fosse una vittima piuttosto che un colpevole e inoltre in questi giorni sono stati anche riportati a galla altri video di Justin Bieber in particolare questa intervista dove racconta delle cose che ha subito nell'industria e di come cerca di proteggere Billie Eilish dalle cose che ha subito lui questa intervista è del 2020 ma è diventata virale di nuovo in questi giorni e tanti sono convinti che parlasse delle cose che ha visto da ragazzino all'inizio della sua carriera proprio con Big Diddy un'altra cosa che ultimamente viene nominato ovunque è Beyoncé insieme a Jay-Z e se per Justin come abbiamo visto la maggior parte delle persone sembra essere convinta che sia una delle tante vittime per Beyoncé diciamo che il discorso è l'esatto opposto infatti in tantissimi sono convinti che lei e il suo compagno non solo sapevano tutto ma che a quanto pare anche loro erano complici o peggio persino figure superiori a Diddy e per Beyoncé per esempio io ho i per te pieni di video di celebrità che si scusano con lei come se fosse a capo di qualche organizzazione cosa che poi è diventata anche un meme tantissimi commenti di odio contro di lei su tutti i social gente che gli toglie e segui sui social in massa e all'inizio non capivo del tutto queste ragioni quindi ho cercato un po' e a quanto pare la ragione sarebbe questa che in realtà questa poi sarebbe più che altro una teoria che è diventata virale e che si basa su alcuni fatti reali ma anche con un po' di fantasia in pratica negli anni 90 c'era una cantante americana molto brava che si chiamava Alia e che per la musica che faceva e anche il suo stile era un po' in competizione con Beyoncé quando stava iniziando la sua carriera purtroppo Alia è passata miglior vita molti anni fa ormai ed è probabile che questo evento abbia di fatto spalancato le porte alla salita di Beyoncé ma cosa c'entra tutto questo con lo scandalo di P. Diddy beh il motivo è che Beyoncé Jay-Z Diddy sono amici e in ottimi rapporti da ormai decenni e J. Cole ha fatto una canzone questa qui uscita più di 10 anni fa ma che le persone hanno interpretato in un altro modo grazie alle informazioni che sono uscite in questi giorni con questo scandalo nella canzone J. Cole dice che speri riposi in pace Alia un'altra ragazza e Michael Jackson e in seguito ritornello che dice lei lo sa e in molti ora sono convinti che questa lei sia proprio Beyoncé anche per alcuni giochi di parole e questo perché c'è una teoria molto popolare secondo cui Diddy avrebbe avuto un ruolo nella fine di Alia Michael Jackson e anche altre celebrità come per esempio Tupac quest'ultima poi rivalita molte volte da alcuni rapper come per esempio Eminem e che potrebbe avere altri svolti dato che recentemente la famiglia di Tupac ha assunto uno degli avvocati più potenti di Hollywood per indagare proprio su Diddy che potrebbe avere avuto un ruolo nella fine di Tupac e quindi per questo stretto collegamento con Diddy in tanti sono convinti che ci sia anche lei dietro la fine di tutte queste star in particolare di Alia e questo spiegherebbe poi tutti i video in cui ci sono celebrità che vincono premi e completamente a caso nel loro discorso ringraziano Beyoncé o anche il video di Kanye che interrompe Taylor dicendo che si è stata brava ma anche il video di Beyoncé era stupendo e ora in tanti sono convinti che l'abbia fatto per salvare la vita Taylor perché chi non la ringrazia quanto pare rischierebbe molto ovviamente ci tengo a precisare che tutta questa parte su Beyoncé è letteralmente una teoria del complotto non esistono prove che sia davvero così io non penso nemmeno ci sanno indagini o nulla di questo tipo ma dato che ormai ovunque mi trovo video che dicono queste cose e in tanti mi hanno chiesto il significato di questa frase ho voluto mettere la spiegazione anche se ovviamente è solamente una teoria che sposa nei social in ogni caso ragazzi per oggi direi che è tutto dunque se vi interessa questa storia e volete ulteriori aggiornamenti fatemelo sapere con un mi piace e un commento vi ringrazio a tutti gli abbonati per il supporto e noi direi che ci becchiamo alla prossima